ciao a tutti e benvenuti sul mio canale allora oggi nuovo video come avete capito dal titolo è un video sui miei regali di compleanno e anche per quanto riguarda la postazione smalti finalmente fatta anche quella anche quella come regalo di compleanno oltre vabbè a tutte queste cose eccetera eccetera il 3 marzo è stato il mio compleanno che è stato di sabato e quindi ho voluto farvi questo video come regali dopo la maggior parte vabbè ho ricevuto i soldini quindi niente però vi faccio vedere i regali che praticamente mi ha fatto il mio ragazzo che mi ha fatto anche questa diciamo postazione smalti uno scaffalino insomma quelli che vanno attaccati nel muro poi l'avete visto come anteprima dell'immagine credo del video allora comunque a sorpresa sabato quando è venuto giù ogni tanto lui è stato forte che mi tirava fuori un trucco diverso da un altro me ne ha preso uno solo che ce l'avevo ma loro non sapeva però va bene allora cominciamo mi ha preso tutte le cosine quelle che c'erano i trucchi a lidl che sono usciti fuori nuovi se vede cerco di mettere più luce ok allora mi ha preso questa qui che è una cipria della cien ed è così io ce l'ho uguale soltanto pensavo di avercela invece noi ce l'ho più chiara questa però più scura in videocamera non rende il colore è un marroncino più scuro qua lo vedete pare tipo su un giallo un color sabbia molto chiaro insomma invece è molto più scuro e questo qua scusate qui e qua ho provato a lavarmi ma mano a mano andrà via che per per levare la carta su un altro prodotto che mi ha regalato lui mi sono sporcata tutta ma che col sapone mano a mano dopo andrà via comunque ok allora poi mi ha regalato questa matita qui questa della colca gialle questa sempre della cien esatto per levare quella pellicolina qui è stato un incubo veramente e me sono sporcata tutta però vabbè sono stata contetta perché comunque una matita nera per occhi per sotto l'occhio infatti questa è black me stava finendo quindi ha fatto benissimo a prendermela la punta è questa scusatemi ieri ma me la so acciaccata un po la punta vedete l'ho rovinata infatti apposta qui sono tutta nera però va bene e quindi questa qui è la punta era meglio prima però vabbè ok ho fatto un disastro per aprire questa questa qui la matita per gli occhi nera poi mi ha fatto queste qui che non ho presi mai infatti ha fatto bene a prendermi perché volevo provare che è lip butter silky balm e gloss io pensavo che era le matitone quelle per gli ombretti invece questo è un lip che a questo colore pare malva po più o meno proviamo insieme dovrebbe essere matte no non lo so mi sa di no non è matte profuma tantissimo non so se è matte o no vabbè vediamo adesso passiamo a altri altri prodotti poi vi dico se se è asciugato se diventa matto o meno ma mi sa di no che non c'è scritto matt mi sa di no vabbè questo poi mi ha fatto un altro lip gloss questo rosa che c'è di micro brillantina all'interno rosa fucsia questo pure profuma questo volando lo potete mettere sopra un altro rossetto che penso che non si vedrà tanto infatti cioè se volete delle labbra un po più delicatine così un po più trasparentina allora questo va più che bene però come lip gloss colore di solito quelli che prendevo io ogni volta sempre tutti trasparenti nel colore non si vedeva per niente questo almeno un po colora pare ok questo poi mi ha fatto questo mascara qui che ce l'ho questo quel prodotto che le già e l'avevo preso sempre a Lidl però se vedi che adesso sono tutti altri prodotti nuovi che non ci sono andata più a Lidl quindi ok questo è extreme lashes non metto a fuoco no va bene che lo scovolino è questo perché anche poi de mascara ne ho un miliardo e questo qua lo scovolino però vabbè fa sempre comodo comunque quindi amore mio grazie lo stesso poi mi ha fatto quest'altro mascara pensavo che ce l'avessi uguale invece no perché ce l'ho uguale blu però è diverso c'è nel senso la scrittura qua di quello che fa questo per esempio è waterproof ed è push up non l'ho provate mai push up oggi niente mi siete appannato non so perché ma guardate qui il packaging qua che fa così pare che ha ciaccato invece ha fatto proprio così e l'ho visto lo scovolino è carinissimo eccolo qua bello cicciotto insomma ma perché me se vede appannato scusate sto fa delle prove insomma questo qui e poi basta questi sono stati praticamente di trucchini insomma di trucchi che mi ha fatto roberto il mio ragazzo quindi grazie tanto amore e adesso dopo di questi passiamo a alla postazione smalti come sapete io ho fatto la postazione unghie eccetera eccetera quadrati sotto e giù e la sto finendo mi mancava infatti fare questa postazione smalti diciamo a mettere queste mensole insomma tutte cose così per mettere tutti i smalti che ho e sono felice perché la postazione è finita ho tutto per quanto riguarda le unghie per i smalti ecco l'unica cosa mi manca questa rete che l'ho acquistata su internet e mi deve arrivare ormai la prossima settimana mi doveva venire questi giorni ma giovedì venerdì scorso ma ho fatto della neve come sapete niente e quindi credo che mi dovrebbe arrivare la prossima settimana e che dirvi e poi niente poi vedrò quando metterò il letto è tutto vediamo come diventa la stanza se vedo che non mi soddisfa tanto allora andrò a mettere questo seppare se no il seppare ovviamente non lo prendo se è carino così che rimane tutto carino così insomma va bene banda le ciance vi faccio vedere la postazione smalti ecco qua qui vedete come avete visto l'altra volta la postazione delle unghie il cassettone nuovo che avevo preso con il cestino dove qua avevo fatto anche la postazione make up che c'è tutti i make up lì l'altro scaffale diciamo c'è scaffale scusatemi cassettone tutta roba per le unghie insomma questo l'avete già visto sopra come vedete ho fatto mettere i tre attestati dei corsi che ho fatto per quanto riguarda le unghie poi dopo comunque ne dovrò fare altri e questa qui praticamente è insomma la postazione smalti diciamo no? e ho deciso di prendere questa da Roberto ho deciso di farmi dare questa qui la volevo nera perché vedete pare nera ma non è ma è marrone però è un bel marrone con i marroni brutti è marrone pare bronzo metallico che ha i micro brillantini pare insomma pare metallizzato ed è bello bianca ha fatto bene a non prendere ma comunque penso che non si notava più di tanto già con il muro bianco non penso che si notava più di tanto però con gli smalti che io la maggior parte come vedete c'erò pare che vanno più sullo scuro che sul chiaro a me piace molto quelli più scuri però comunque metto anche quelli chiari cioè mi piacciono tutti e due però vado su più quello scuro insomma del smalto se notavano di più gli smalti insomma si vedevano meglio se la la mensola insomma diciamo come la vogliamo chiamare era bianca però mi sa che è meglio marrone che si addice poi anche colopardato che è nero e marrone insomma eccetera eccetera allora prima di farvi vedere comunque da vicino tutti i miei smalti io qua ci volevo fare un disegno sapete sono brava a disegnare eccetera volevo fare uno smalto gigante tipo questa parte qua del traverso che facevo vedere che cascava il prodotto qua tipo la la pozzangara diciamo che fa lo smalto no che accade e sopra la mia scritta Greta Nils però non so se fare questo tipo di disegno o un altro tipo di disegno in caso sotto in questo video sotto nei commenti fatemi sapere che disegno potrei fare qui che si addice alla mia postazione insomma unghie smalti eccetera eccetera io avevo pensato ecco a questo smalto del traverso che fa cadere il prodotto praticamente dal prodotto questa parte qui del traverso così facevo Greta Nils però se voi avete qualche altra idea di cosa potrei disegnare mi farete un favore almeno poi deciderò se fare se prendere un consiglio vostro oppure farmi questo smalto eccetera eccetera però almeno così sento anche i consigli vostri quindi vi ringrazio se mi commentate sotto ho aperto sulla serranda ma con la luce qui c'ho una luce praticamente con la calda non è a led quindi fa cacare insomma non si vede tanto allora io ho messo tutti i miei smalti li ho messi tutti per marca tipo qua ci sono tutti della Kiko qua eccetera 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 e tutti per gradazioni dei colori quindi insomma tutti blu dal più scuro al più chiaro poi comincia qui rosa dal più scuro al più chiaro insomma dal più scuro al più chiaro l'ho messi adesso vi faccio vedere allora questi qua adesso vi faccio vedere così sono tutti della Kiko questi compreso questo qui che arriva della Kiko qua in alto che arriva fino a qua fino a questo qui trasparente adesso vi faccio vedere qui come vedete ho messo tutti sulle tonalità di blu pare ne uguali ma non sono poi mi piace questa qui perché c'ha tipo questa eringhiera che così se ci sbatti vedete il colore non cade cioè insomma lo smalto e tutti questi tipi di smalti qui adesso non li sto a fare uno per uno eh se no affittiamo mai allora questi sono i colori della Kiko tre brillantinati quelli metallizzati quelli semplici eccetera eccetera che va a finire dal blu celestino poi qua partono i verdi qua l'ho messo uno doppio perché scusatemi ho spinto il dito dello spegnimento del video allora qua vi stavo dicendo partono i celestini qua l'ho messo i doppi perché c'erano due questo qui mi stava affinando infatti l'avevo comprato uno nuovo che è questo qui è nuovo questo qui invece mi stava affinando c'è sermenta e quindi l'ho messo lì doppio insomma qui partono fino a dai celesti poi qua sotto dei verdi sempre brillantinati metallizzati di tutti i tipi vedete questo vi pare celeste ma un verde acqua quindi l'ho messo tra i verdi poi qui partono questi dovrebbero essere rossi no e rosa e rosa fucsia e quelli qua vedete più scura più chiaro poi c'è quelli color carne che è sui rosa praticamente come questo qua poi qua partono in viola come questo qui cioè guardate questi brillantinati bellissimi ma anche tipo questo qui adesso ve lo faccio vedere dove tipo anche questo blu guardate solo che questi per levarli a un colpo però vabbè ok allora siamo arrivati qua ecco di qua ah questo qui è un danno è successo che il tempo fa io ci ho messo lo scotch e mi si era rotto il tappo così infatti se no mi si seccava il colore siccome è bellissimo questo smalto mi piace tanto vedete è bello tanto e mi dispiaceva buttarlo via che si seccava allora ho rimediato così infatti non si è seccato che niente poi questi pure tra i viola alcuni colori non corrispondono alla videocamera quindi dal vivo sono diversi è un po' più scuri un po' più chiari un po' più accesi alcuni uguale però questi sono i rossi vedete come questo qui brillantinato bellissimo sono tutti i tipi di rosso poi qui ho messo il giallo questo tipo non so che colore è questo se è un celestino non ve lo so dire poi qua partono i grigi questo qui è quello che fa diventare l'unghia così praticamente ti metti uno strato di smalto questo o due ci soffiate oppure aspettate un attimo e questo si chiama effetto crack da come mi ricordo io che ci andava molto de moda tempo fa e fa questo spezzato qua insomma questo qui è effetto specchio invece ah e questo qui invece questo verdolino qua bisogna mettere questo che l'ho messo qua che poi fate questo lo sposto e lo metto qui vicino a lui che fa praticamente queste righette qua che c'è il magnete che fa questo effetto qui poi questi sono i neri questi neri con un po' di brillantini questo con più brillantini e poi partono da Kiko adesso questi tubicini qua packaging diversi però questi qui non li ho messi in graduazione dei colori si li ho messo sempre dal più scuro al più chiaro ma non è che c'ho tutti i blu tutti i verdi insomma ecco infatti i blu poi c'è il grino marroncino questi altri colori eccolo qua poi partono questi colori qui della Kiko quel packaging diverso sempre che l'ho preso in una collezione di natalizia che c'erano questi otto smalti che c'era il marrone il blu il nero questi due tipi di rosso e uno rosa mi pare questo aranciato diciamo un rosa chiaro e il trasparente scusatemi quindi questa parte qui riguardano i smalti della Kiko scusate poi qua passiamo i smalti quelli delle essence che c'era l'essence pure tempo fa sta scatolina con tutti questi tipi di smalti qui e un'altra scatolina con i stessi smalti stessi packaging soltanto che cambiava il colore di smalti che era più chiare io con la voglia avevo la voglia amata dei colori scuri e le ho presi scuri pure qui graduazione dei rosa di quelli che c'era e quest'altri poi della essence pure ho solo questi due della essence fatti così insomma tu vicino poi questi qua sono della essence adesso passiamo a quelli della Lidl della Lidl quella volta lì che c'era questa marca qua sempre della Sien la Nidl Polish l'ho presi tutti 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 quelli che c'erano e sono tutti questi colori qui molto belli tutti molto vivaci poi della Sien ho preso anche tutti tutti di questi eccoli qua sempre della Sien questi sui tra i rosa sarebbe qua i rossi il trasparente e quello color carne poi della Sien ho quest'altri che questi alcuni me li ha presi Roberto quelli che c'era anche per Natale che stavano dentro queste palle gigante e questi ho anche le basi insomma come vedete cioè questa è uguale a questa l'ho ricomprata alla Sien perché infatti vedete mi stava finendo e anche questa come base ottima questa poi della Sien ho questi piccolini questi qua allora questi alcuni li ho presi così normali altri stavano dentro a ste palle di Natale diciamo che ti regalava due smalti due di questi compreso il leva smalto questi qui invece invece che te le palle di Natale stavano dentro le stelline di Natale c'era solo due smaltini molto belli questo qui è fluo se vede bellissimo colori stupendi questo blu pure bellissimo molto molto belli questo è rosso grigio metallizzato arancione questo oro pure che non ce l'avevo bellissimo e quindi della Sien finiti qua poi passiamo alla parte della Melissa quelli che hanno l'effetto gel questi pure sono ottimi stupendi questi qua pure tra i rosa vedete tutta gradazione del colore di viola poi qua c'è sta un begiolino un grigio quelli brillantinati blu un verde un rosso un altro verde insomma tutti questi colori questo verde qui lo vedete così acceso in videocamera ma non è così acceso molto più meno acceso insomma questo tipo d'arancione poi della Melissa abbiamo questi altri smalti questi bellissimi questi sono veramente stupendi mi piacciono veramente tanto guardate la boccetta c'è la fine oiudi bella grossa quante ml è questi 15 ml tanto prodotto a me piace infatti l'ho presi anche un po' glitterati un po' di tutti i tipi questi qui con le paillette bellissimi questo è stupendo ragazzi l'avevo provato è bellissimo guardate che effetto che fante lunghe se mettete tipo l'unghia tutta nera c'è bellissima avete questi riflessi qua queste paillette tuzze bianche rosa bellissimo molto delicato poi anche come colore ma anche sotto una base bianca o viola azzurra che ne so quella che ci può stare meglio poi vabbè un grigio un verde un giallo questi sono quelli pastello questi 3 1 2 3 poi dalla Melissa abbiamo questo qui molto carino pure che tutte queste paillette così poi vabbè abbiamo questo grigio mentalizzato poi passiamo a quelli dell'astra sempre questi sono quelli effetto gel questi qua questo pure effetto più o meno specchio questo è stupendo pure ragazze bellissimo c'è bello tanto questo queste spaglietuzze fatte così argentate bello poi questo non lo vedete vabbè sempre dell'astra che cambia il packaging che ha fatto così questa è sempre una base che l'ho messa qua quindi qua ci sono tutti i smalti della praticamente a parte della chicco vabbè che finisce lì della essence dell'idl quindi quelli della sienne effetto gel della melissa e della melissa eccetera poi da qui comincia l'astra che parte da qua sopra eccola qua questi sono quelli dell'astra quelli dell'astra pure c'hanno abbastanza che è usciti anche questi qui nuovi che c'è anche qua dietro poi pure questa un'altra basetta un'altra base e poi passiamo tutti questi smalti da giù in poi sono tutti cinesi tutti un po' messi così a a cacchio insomma le marche insomma ho messo quelle che erano tutti uguali smalti questa è la della vernice che ho questi tre questi quattro non so come si chiamano ma guarda che figata questi packaging poi qui c'è il diamantino bellissimi questi anche come effetto poi qua dietro scusatemi ho questi due che è un dio era uscita scusatemi la collezione quella di Mada Fashion però ho ricevuto solo questi due smalti ci ho preso poi questi qui della Yes Love vabbè poi qui dietro invece abbiamo della Tertio questi due qui perché non mi bastava più praticamente la postazione lo dovete mettere un davanti ad un altro qui dietro ho quelli della Sprint poi ho questo sempre della no Quick Drying questo l'ho preso all'Eurostock questo qui cos'è do lo ma buona roba do lo mia lo mia so come si dice qua dietro questi altri due poi poi aspettate questo qui l'ho vinto questo qui della mes'aula mes'aula mes'auda di un giveaway su YouTube questo qui invece è della Rimmel bellissimo poi dietro questi altri due che sono della Deborah allora ah bene poi questo qui sempre della Yes Love poi qua abbiamo questi tipi di smalti qui sempre della Yes Love poi questo qui pure l'ho vinto questo è bellissimo questo rosa che è matta è stupendo con le unghie lunghe è bellissimo poi ho questo qui dei cinesi bellissimo questo anche natalizio poi qui dietro ho sempre altri smalti della Yes Love poi adesso vi faccio vedere questi qui davanti aspettate scusate mi stavo dicendo ho questo qui che mi ha preso Roberto su Webuy mi pare su Wish mi pare che questo qui cambia colore da rosa viola quelli termo della pupa con te belli questi pure li vorrei tutti che c'è solo questo che ho preso questo colore qui che è bellissimo che è top coat iridescente cioè guardate bellissimo questo qui sempre Roberto me l'aveva preso su internet che si illumina al buio poi questi qui sono tutti della Yes Love che avete visto prima tutti là dietro insomma questi e quest'altro questi due questo gripe rosa e niente io ragazzi che dirvi sono stra felice questo qui è stato l'altro mio regalo poi qua ci sono andata a mettere anche gli attestati a meno una ragazza quando entra dalla porta si mette a sede qui davanti si vede tutto questo spettacolo poi dopo vorrò fare la prova mi mette a sedere quando faccio i video se si vede anche la postazione dietro di smalti è bello che si vede è una roba carina poi vedremo quando farò un videotag o qualcosa se si vede qualche smaltino dietro insomma e niente questi sono stati i miei regali di compleanno oltre i trucchi che vi ho fatto vedere prima che aveva fatto Roberto Roberto come sorpresa mi ha fatto anche questa postazione qui per gli smalti insomma queste mensolette mi piace veramente tanto infatti quando dovrò andare a prendere la testata del letto di mare a mio padre è uguale praticamente più o meno al ricamo che c'ha qui e quindi ci si dice proprio e niente io spero che il video vi sia piaciuto se è stato così mettete il pollice in su fatemi sapere se i miei regali di compleanno vi siano piaciuti e finalmente la mia postazione è finita perché manca solo ecco vi ripeto il letto vabbè la rete col se pare se fosse lo prendo quindi alla fine si può dire che è finita con la postazione make up lo cassettone lì per le unghie insomma questo tanto insieme la scrivania e la postazione smalti ho finito finalmente non vi faccio l'aggiornamento alla fine non ve lo faccio perché tanto l'avete visto tutto ordinato di cestino tutto quanto l'avete visto mano a mano tutti i miei video quindi senza che sto a fare gli aggiornamenti tanto dopo vi faccio sempre le stesse robe fatemi sapere una cosa allora se qua che ci volevo disegnare ecco questo smalto che cadendo fa cadere un po' di prodotto e sopra ci faccio la gritta nils o se no ditemi voi se avete qualche idea di che cosa potrei disegnare volendo ci stanno anche i sticker però mi piacerebbe fare una cosa da per me una cosa mia quindi lo volevo fare lo volevo fare io insomma se no uno prende i sticker disi adesivi adesivi fa prima però no mi piace farlo da per me una cosa che mi piace tanto come ho fatto e l'ho pardato ovviamente e quindi qua è proprio rimane tutta una postazione mia tipo un negozietto no ufficio insomma quindi fatemi sapere e datemi qualche consiglio sbagliato sotto a questo video nei commenti cosa potrei disegnare che si addice ovviamente i smalti e le unghie insomma quello che riguarda tutte le unghie fatemi sapere e se no rimango con l'idea mia faccio lo smalto eccetera dopo leggerò anche i vostri consigli vediamo quello che mi può ispirare di più se vedo che non mi ispira nessuno ragazzi io mi farò il suo smalto e via c'è amen però se qualcuno ha un'idea migliore mi fate sapere voi va bene grazie per l'aiuto mi raccomando aspetto i vostri commenti del consiglio e fatemi sapere anche cosa ne pensate di miei regali di complanno vedete un po' di censo seguitemi nei miei social facebook e instagram io vi saluto vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo presto al prossimo video ciao